Amici appassionati del meteo, preparatevi, stiamo per accogliere un ospite che ha già fatto parecchio parlare di sé. Mentre noi lo conosciamo come ciclone poppea, i nostri amici britannici lo hanno ribattezzato Tempesta Betty. E pare che Betty, dopo aver fatto un po' di scompiglio nel Regno Unito, abbia deciso di fare una visita al bel paese dalla fine della settimana. Ora, se avete goduto delle temperature tropicali degli ultimi giorni, dovete ringraziare l'anticiclone africano, che non ha intenzione di concederci tregua almeno fino a domenica. Caldo torrido, notti senza sollievo, sembra che per tutta la settimana siamo destinati a cercare qualsiasi ombra possibile. Ma, come spesso accade nella vita, dopo il caldo arriva il fresco, o, nel nostro caso, una tempesta. Da domenica, l'abbraccio caldo dell'anticiclone africano sarà interrotto dal freddo ciclone proveniente dal nord Europa. Sì, avete capito bene, Betty o Poppea, chiamatela come volete, è in arrivo, e non sembra avere intenzioni amichevoli. Le temperature sono destinate a scendere in picchiata, con un drammatico calo di 10 gradi. E mentre cerchiamo di tirare fuori i maglioni, dovremo anche tener d'occhio il cielo. L'incontro tra il caldo anticiclone africano e il nostro ciclone potrebbe dar luogo a spettacolari, e forse anche un po' spaventosi, temporali e grandinate, in particolare al nord. Gli effetti di Betty non sono stati affatto leggeri nel Regno Unito e in Irlanda. Parliamo di strade trasformate in fiumi e danni ingenti a causa delle piogge. E per dare un'idea di quanto sia stata intensa, in appena un'ora, il cielo ha scaricato ben 36 mm di acqua. I britannici sono rimasti increduli, e non solo i comuni cittadini. Anche i loro esperti del tempo non avevano mai visto niente di simile. E quindi, cari ascoltatori, prepariamoci. Sembra che una settimana piuttosto movimentata ci attenda. Mantenete la calma, tenete l'ombrello a portata di mano, e, come sempre, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie sul meteo.